Dicevo che adesso è chiuso il distributore, perché sto dipingendo, se non è un casino sta dietro il cliente alla cassa, perché non è solo distributore, è anche vendita di snack, bevande, roba varia, poi non so se si potrà sbloccare pure il lavaggio, non lo so, poi vedremo se possono sbloccare pure tante cose, però adesso voglio un attimino dipingerlo, perché è bruttissimo così com'è, sembra un residuato bellico, e quindi, e quindi, e quindi, e allora, ciao Barsim, buongiorno, Allora, attualmente il ragazzino dei graffiti l'ho disattivato, perché mi sta troppo sul ca, che io dipingo, arriva quello con la bomboletta, mi fa così, poi magari dopo lo riattiveremo, però per il momento l'ho disattivato, perché provo odio puro per quel personaggio, saluto anche Barsim, buongiorno Barsimino, buongiorno Barsimuccio, buongiorno, oh raga, mi fate sapere se il gioco gira bene, vedete lag, vedete, vedete qualcosa che si blocca, dovrebbe girare bene, hanno ragione, Hanno ragione, l'hanno ottimizzato veramente bene, sono soddisfatto, no, 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 vabbè, il tetto, il tetto ormai, il tetto, ma scusate, il tetto me lo fa fa, no, il tetto, no, il tetto rosso io lo volevo, vabbè, ormai me lo fa dipinge, una volta che voi, ah, non si può più togliere il coso, una volta che tu, vabbè, a parte che è carino pure così, eh, a parte che è carino pure così volendo, eh, come lo famo il tetto rossino? Lo famo rossino, ciao Marco Puzzolo, ciao Marco Puzzolo, ciao Daniele, Daniele Farmer, gira bene senza lag, è ottimo, ottimo, l'hanno ottimizzato bene, allora, l'hanno ottimizzato bene, io vi farei vedere la prima volta che sei mesi fa ho giocato la demo, sei mesi fa quando ho giocato la demo era una cosa, era una cosa inguardabile, ottimo, ottimo, sì, però l'italiano, ma perché hanno italiani in ce considera nessuno nei videogiochi? Perché? Perché? Siamo anche campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa, cioè, voglio di, voglio di, vabbè, allora, ciao Mr. May, buongiorno, buongiorno Mr. May, buongiornissimo, se non state in grigio, nel verde, cioè, se non state nel verde schizzate per terra, eh, vedo sto, vedo questo piccolo annunciament, annunciament, io pesa il tetto lo faccio così uguale, è carino, dai, è carino il tetto in cotto, Il tetto in cotto, raga, è carino, è carino, color cotto, dai, color cotto è carino, credo, eh, a me piace, eh, ok, stai in verde se non schizzi, stai in verde se non schizzi, stai in verde se non schizzi, ok, dai, io mi accontento di sto colorino, va bene, va bene, un po' come le pareti, dai, un po' come le paretine, sì, ok, sì, ma così ho una vita, raga, Vabbè, però, che dobbiamo fare? Mo' dobbiamo, ci abbiamo come missione principale quella di dipinge tutto, cioè, se dipinge, di restaurare tutto il magazzino, che non so quello che ci faremo nel magazzino, allora, finimo un attimo di dipingere sto coso qua, e poi facciamo gli interni, pure gli interni so, so da fa assolutamente, ok, qui il muro, il muro lo facciamo dello stesso coloro, che mi ha preso, no, mi ha preso il tetto, l'avevamo già dipingere, aspettate, c'è qualcosa che non mi guaglia, qui, perché così? Ma qua è un ormachive, oh, dottor Peru, buongiorno, ma cosa vuole? Buongiorno, dovrei fare la chiugere, perché? Lo so, perché sto lavorando, sto seguendo lavoro in cuoca, non in sicurezza, perché non c'è il ponte, vero? No, non c'è il bragaco, è la linea Vica, allora, guardate, guarda Peruccio come faccio le colonne, guarda che bello, guarda che bello come faccio le colonne, le faccio più chiare, vediamo un po' se è bello così, con le colonne più chiare, oppure no? No, ma che roba sto facendo qua il pennello? Eh, devi mantenerlo sul verde, se no ti schizza tutto, ciao Luna, ciao Lucio, scusa, saluto gli amici, se no mi perdo i messaggi ed è un macellaio, dica, dica Peruccio. Oh, buono, come non hai visto che c'era il bascone con penne e cracco, ma la mente, nera, no, no, vabbè ma quelli sono dettaglioni, tu chiamali se vuoi dettaglioni, no, non mi piace il nero, mi sa, è troppo dark il nero, ma però potrebbe, ehm, si riguarda tutti bianco, ottimo, 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 ottimo. Sai però, Peruccio, nel periodo che ho fatto l'antennista, ho imparato a spellare i fili. Oh, è tanto, eh, è tanto. Poi quando si doveva mettere le parabole, mamma mia, non si finiva mai, io, e gira di qua, e gira di là, e gira di su, e gira di su, di qui. Ma lui c'aveva tipo un cosetto, un macchinario. Sì, sai lo scromenco, però non è che, sai che deve essere comunque. Poi ho lavorato con un elettricista, per un po' di mesi, sei mesi, mi pare, però l'unica cosa che ho fatto in sei mesi è stata, sono state le, le tracce, le tracce sul muro. Vabbè, eri un muro a cuore dopo, cucco, quindi è l'esperienza, vedi che ti porta a qualche parca. Ho solo scavato, ho solo scavato e distrutto forati, comunque, allora, eh, buongiorno. Non ho mai fatto una craccia, ad esempio. Buongiorno Albe, buongiorno Albe, una mattinata tranquilla per seguiti senza pensieri, ottimo, ottimo. E io le facevo col piccone, le tracce, eh, non si sono mai fidata a damme macchinari, chissà perché, peruccio. Le faccio sempre a mano col picconcino, capito, con la piccozza. Dai, sono scacchi e gianchieri, penso se chi gavango scai ferro. Pure l'antennista hai fatto, uovo dai mille lavori. Verrei sbagliato a collegare le spine a casa. Ah, no, sì! No, quello quando ho fatto l'elettricista. Quando ho fatto l'elettricista. Ha fatto corco. Ah, tu dici le spine a casa quello, no? Non vi ho raccontato quando mi hanno... Un giorno, Peru, mi hanno detto, dice, tiè, il cacciavite va a collegare i frutti. Loro li chiamavano i frutti, non so se si chiamano così. Si chiamano frutti. Praticamente che ho fatto, a un certo punto al bagno, quando accendevi la luce suonava il campanello fuori. Perché avevo collegato, ha visto quella cordicina che sta sulle docce? Avevo collegato quella che citofono... Non lo so quello che ho fatto. Quindi, quando tu citofonavi suonava quello nella doccia. E quando tu tiravi la cordicina della doccia, si accendeva la luce. Però io gli ho detto, dico, scusami, ma sarà più utile così, no? Se devi spegnere la luce e stare nella doccia, o accende e tiri la cordicina, e dice, no, sei cazzato. Allora, ciao Dan! Buongiorno Dan! Allora, ma guarda che sono... Ma sai qual è il problema? Che sono tutti uguali, Filipe, come cacchio fate a riconoscere voi elettricisti? Sono tutti identici. Allora. Venugio potrebbe morire soffocato. Ma il capo, eppure il capo non rideva. Allora. Odiavi già citofono a quei tempi? Può essere, può essere. Può essere. Allora. Oddio, la va per terra che ho schizzato dappertutto. Ok. Ok. Se ci sono. Ma senti un po', una domanda. Ma le porte non le posso costruire su sto locale. Cioè, deve stare senza porte, sto locale. Open space. Ce si abbassa su sto gioco. Lui c'è a marte schiena. Ha detto, se te vado, abbassi te. Ciao Darkhan Gamer. Buongiorno. Ciao Affe. Buongiorno. No, speriamo che non esplode tutto. Speriamo che non ci hanno messo l'esplosione su sto gioco. Perché se no la vedo brutta. La vedo... Oh, c'è troppa monnezza. Aspetta, chiamiamolo Mino. Chiamiamolo Mino della monnezza sul computer. L'Omino lo so come si chiama. Vai su Delivery. E te fai portare... Ecco, Garbage Collection, order. Adesso viene il furgoncino della monnezza. Allora, insieme ci sarà magari anche l'ordine per i prodotti. Non riesco a trovare nulla di similarum. Similarum, similarum, similarstim. Senti che è latino. Allora, aspettate. Ah, quanto pesa sto tavolo. Lo devo buttare dentro, se no quello non me lo piglia. Ok. A posto. Quando arriva il tizio? Peruccio, il tizio della monnezza non si vede ancora. Ma non è che c'è l'orario? È notte. Ciao Bruno, buongiorno. Quando qui faceva il monnezza e chi chiamava la luna di macchina, andavi? No. Ecco. Allora. Ciao Bruno. Nel tuo primo video non c'è come si compra la roba. Sì, l'avevo interrotto prima, infatti, mi ricordo. Infatti io non ho detto che vede il mio. È Peruccio che ha detto che vede il mio. Io ho detto guardate il video di qualcun altro. Sono veramente un disastro, caro Stefano. Sono un disastro. Ecco il camioncino! Ecco il camioncino! Peruccio! Io ti avverto, Peruccio. È un camion da monnezza del 1600, eh? È un camion della monnezza. E il secondo video esce oggi? Dove però non ho messo il tutorial perché l'avevo fatto sul primo. Poi dopo però mi sono ricordato che quel pezzo non l'avevo fatto. È un macello, raga, è un macello. Ma facco i ganghi! È zozzo per terra qua, oh! È a zozzeria questa? Sì, che a zozzeria! Tuisci? Allora, dov'è il camioncino? Dai, che qua è tutto pieno! Ciao Ritmo! Guarda che bellino, Peru! Da 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 da! Ma che che... Guarda che bellino! Da 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 da! Oh, buongiorno! Senta, qua c'ho un botto di monnezza da portar via! Ok? Ok? La ringrazio, la ringrazio! Buongiorno anche a lei! Scusi se ho l'alzata a questo... Che sta fa? Questa? Oh, questa? Questa! Questa! Dentro! No, non l'ha... No! Non l'ha piglia, Peru! Non l'ha presa! Eh, non l'ha messa bene! Porca miseria! Porca miseria, porca miseria! Non so se si può pitturare la cisterna, sai? Vediamo! No, no, se possono pitturare solo le cose di... Scaffalose! Vabbè! Eh, ciao Rit... No, l'avevo salutato Ritmo! Vabbè, lo risaluto! Meglio saluta due volte che zero! Oh, adesso dobbiamo, Peru, fare la missione! Ovvero, toglie le balle dalle balle! Non sono balle, sono prida! Sono diverso! Dove me le metto? Dove me le posso... Ah, qua dentro! Le butto via? Ma chissà quanti contadini farebbero comodo! Noi le buttamo! Penso che sia marcio ormai qua il pieno! Ah, ok! Ciao Robby! A stasera Robby 85! Ah, penso che c'è Luca Vigafull! No! Allora! Ma cos'è? Una band? Aspettate un po' un attimo che ho visto una cosa! Cioè, hai fatto caso c'è una band sul palco? Cioè, tipo... E cos'è? Cos'è sta roba? Sbaglio! Press F to play! Ciao Ale! Oddio! E come cosa? E come... Come si chiama? L'astofasse 2! L'astofasse 2! Allora, premi A, S, D, Z, X, O, C per suonare! Muove il mouse per gli accordi! Che devo fare? Vi ho capito! Ma non suona! Ragazzi non suona! Premi il casco! Che chiese! Aspetta! E li muovo ma non suona! Ah, oh! Senti, sto spingendo! Senti, eh! Non suona! Non so che dire! Ma non è perché c'ho il joypad! Deve suonare! Ah, sì! Vuole che... Prova! Vuole che muovo le levette! Sì, ma non suona! Non si sente! Ma non avrà finito di fare! Ma non si sente! Ma non so... Ma che è? Ah! Aspetta! Ah! Aspetta, aspetta! Le bionde tricce, gli occhi azzurri e poi... Funziona! Le due calzette rosè... Senti! E l'innocenza sulle code tue... Bellissima! La tua arancia ancora più rosse... Tutti insieme! È bellissima! E la cantina buia dove noi... Espiravamo piano... Tutti insieme! È bellissimo! È il gioco più bello del mondo! E l'erba... E l'eco detto... E no! Oh no! Mi stai facendo paura! Vai, Peruccio! Funziona, raga! Bellissimo! Bellissimo! Perù funziona! Funziona! Allora, raga! Faremo dei concerti con sta cosa! Sappiatelo! Sappiatelo! Poveri noi! Allora! 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 Eh... Ciao Stefanetto! Ciao Stefanetto! Ciao! Buon pranzo! Allora! Così è sicuro che non corrono più! Vabbè! Io intanto aspetto la macchina... Aspetto le macchine! Aspetto le macchine! Perché ci servono i soldi, raga! C'avemo... Quanto c'avemo? 48! Che ci fanno con 48? Venghino, signori! Venghino! Venghino a mettere la benzina! Venghino! Oh, mamma mia! Eccola Pula! Che vuole la Pula? Peruccio! Due macchine della polizia! Ma hai combinato qualcosa, Peru? Io sto correndo in Vietnam, non c'è ancora, non lo conosco! Peru, che hai combinato? Guardate! Qualcuno era sui chec senza linea vica! Ma quindi sei stato tu! Me l'hai mandati tu! Me l'hai mandato... Non fai con la Skype al gang! Buongiorno! Buongiorno! Che vogliono? Ma che vogliono? Peru! Peru! Io non c'è ancora! Peru! Io sono inocenche, il colpevo è Roby! Ma che è venuto a buttamonnezza qui da me? Sono venuto a buttamonnezza! Ciao, ciao carnivoro! Devo andare che devo scaricare! Grazie di essere stato con noi, carnivoro! Ah, sono clienti! Cercavano la roba e non l'hanno trovata! Raga, non c'ho i soldi per comprare la roba! Gente, mi dispiace! Signorina, guardi, è chiuso il negozio! Non c'ho i soldi per comprare la roba! Signorina! Ammazza che occhi strani che c'ha! Signorina! Non c'ho niente! Ma perché venite tutti a buttamonnezza? Non c'ho niente e buttano tutti a monnezza dentro! Nei, non c'ho niente! Allora, Nei, non c'ho niente! Non c'ho niente, io giuro! Però, però, ecco se... Ah no, questa nemmeno la roba voleva! Ma hanno sporcato tutto il pavimento! Guarda! Sono venuto di solo a sporcare! No, raga, mi sto a nervosi, eh! Che è lì? Mi hanno buttato! Aspettate un attimo, che amarezza! Che amarezza! Amarezza! Sono venuto di solo a sporcare! Che in Alba dice, vai con la batteria! Se posso suonare pure la batteria? Non lo so! Ma c'è suona solo la chitarra, me ne sa! Tipo Last of Us 2! Do lei suona la chitarra! Devi comprare le ciambelle per la polizia americana! Sì, ma perché la gente viene qua e non viene a mettere la benzina? Cioè, vengono tutti al negozio! Ma il bagno è chiuso, attualmente! Non l'ho sbloccato il bagno! Comanda! Sì! C'hai la benzina, Gavanger! Sì, credo di sì! Aspetta! Chiamo il camion che me la porta, così sto sicuro! Gas station, aspetta, delivery! Ok! Ok, ho ordinato la benzina! Ho ordinato la benzina! Ma dove va? Ma che è sto rumore di... Ma non è che c'è se cobra qui? Gli serpetti assonagli! Sì, vabbè, guarda quanta gente dentro al negozio! Non c'ho niente! Robby, compra la roba meno che costa meno! Non c'è niente! Allora, aspetta, è delivery! Chiudi il negozio! Allora, snack! Posso comprare le snack? 54! 37! 37! Questi! Questi costano 37! Me li posso permettere! A posto! E mo' come li metto li? Come li metto li, snack? Ah, deve arrivare il camion che me li consegna! Oh, c'è una macchina! Una 126! Peruccio, qua nel deserto! Una 126 qua nel deserto! Che spettacolo! Hai visto, hai visto? Ciao, azienda agricola Saci Agri! Che carina, vero? Ci sbagliamo a mettergliene di più, eh? Ok! Grazie, grazie! Arrivederci, grazie! Allora! C'ho già una macchina! C'ho già... Quanto c'ho? 49! Dai, dai, dai! Che con 3-4 clienti riesco a... È arrivato il camion della... Del... No, non ancora! Il camion degli snack! Sì, ma qui i clienti continuano ad arrivare! Gira a gira mi tocca fare un debito in banca, guarda, eh! Non lo vorrei fare, Pedro, perché già ce l'ho! Oh, no! Guarda come sporcano! Guarda come sporcano questi! Sono peggio dei vandali! Ma guarda te! Peruccio, io penso che se c'avevo un negozio stavo sempre a pulire così! Caralive non è possibile! Vabbè, c'è un indice di gradimento dei clienti! Signora, salve! Che ha comprato? Un attimo, eh, signor! Allora, a patatina! A patatina la signora! Per gelatino! A patatina! Salve, salve, bella! Oh, vedi? Vedi, ognuno deve tenere d'occhio i clienti e non farli incavolare! Ok, grazie, Nei! Un attimino, eh! Mi leggi intanto la prossima missione, Pedro? Current Tasking, perché io faccio la spesa a questo qua! Ok! C'è più, Pedro? No! Allora, vai, compra un bagno e usa i comandi e premengo icon nella schermata features del computer. Non ho capito manco... Compra il bagno! Ok, features, features... Ok, quindi, author... No, aspetta! Dove stanno i servizi igienici? Questi sono i parcheggi! Coidec! Aspetta, aspetta, aspetta! Oddio, questo gioco mi farà un pazzo, io già lo so! Ma questo non poter aspetta un attimo! A parte che sto alle quattro e mezza di mattina, chi è che va a fa spesa alle quattro e mezza di mattina? Tu me devi spiegare! Allora, ok! Allora, eh... Allora, mi hai detto che devo fare features, shivers, authors... Vedi? Non mi dà la toilet! No! Features, cab! Ah, qui! Parking! No, aspetta! Vedi? E io pigio lì! Eccolo! 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 Che devo fare? Toilette? Pui! Comprai il bagno! Ho comprato il bagno! Amici, ho comprato il bagno! Dove sta il bagno? Ecco! Oddio, che schifo! Oddio, che schifo! Che schifo! Allora... Uh, c'ho la pula! Salve! Quanto metto, agente? Ok, agente... Ammazza, le va, oh! Arrivederci, azienda... Sì, azienda! Agente, arrivederci! Allora, dobbiamo pulire il bagno! Dobbiamo pulire il bagno! Che conviene! Prima che corraggia, anche chi chiude! Che ha scritto, Ney, che se tengo il bagno pulito... Uh, ma quella è cacca! È una cacca quella che ho preso con la mano! Perù! È una cacca quella che ho visto! No, non voglio saperne! Ragazzi, è una cacca quella marrone per terra! Ragazzi! No, perché io l'ho presa con la mano, eh! Vabbè! Allora... Dov'è il coso della bonnezza? Aspettate, eh! Aspettate! Ok! Agente! Agente, occhio! C'è un po' di cacca per terra! Agente! Un attimino, eh! Un attimino! Salve, agente! Salve! Qui dentro ci posso entrare? Per fortuna... Per fortuna dentro lì non ci posso entrare! Per fortuna! Vediamo un attimino, eh! Ma le pareti le devo verniciare o le devo pulire? Le devo verniciare! Bianche! Dai, le famo bianche! Ma sono mattonelle! No, vorrei dire, ma non mi risulta che poi piccola sulle macconelle! Ciao, ciao, sciaccarone! Buongiorno! Praticamente, boh, le stai a pulire, credo! Diciamo che le stai a pulire, dai! Sì, ma dentro lì io ci vorrei entrare, dentro la toilette! Vedete che è brutto e sporco? Ci vorrei entrare! Oh, c'è un tizio alla benzina! C'è un tizio alla benzina! Aspetta, non ce sto a capire niente! Come si sta a chiudere windows! Che sta a fare? Oh, mi si è impallato! C'è un tizio alla benzina, aspettate! C'è un tizio alla benzina! Quante ne vuole questa? Ok! Ok, dentro c'è nessuno, no? Continua a dipinge, continua a dipinge! Io non l'ho mai vista, la vernice per le mattonelle! Non metto in dubbio che esista, ovviamente! Ma è morto e vuoi! Io non l'ho usata mai! Allora... Ehm... A posto! Sarà una specie di smalto che dai sopra le mattonelle! Chiamatela Neuro, Robby e sta scimmando! Mamma mia, questo è uno di quei giochi che... Aspetta, signor agente! Non mi facci la pipì addosso! Allora... È arrivato quello dei snack! È arrivato quello dei snack! Che mi sta a portare sigarette, tra l'altro, che non ne posso usare! Che non ne posso usare! Aspettate! No, 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 no! No! Aspettate! È arrivato quello dei snack! Cioè, dei sigarette! Ehm... Ok! Ok... Sì, ma non ci fanno niente mo' con le sigarette! Ne potevamo mettere! Sì, ciao bello! Ci vediamo tra poco che ti ordini i snack! Chiudi tu! Mi devo... Devo ordinare i snack prima, giusto? Oppure prima... Sì! Però anche conviene... Aspetta, fa soldi, invece che per gli scaffali! E poi... Eh, bravo! Bravo, bravo! È meglio fai scaffali! Mamma mia! Mamma mia! Oh, questo du birre si è comprato! Ma lei non potrebbe bere il servizio, lo sa? Lo sa? Oh, 1,50 de mancia mi ha dato! Mi ha dato 1,50 de mancia! Grazie! Grazie! Ma chi è che me lascia i biscotti per terra? Pedro, non staresti sbadigliando se tu giocassi a sto gioco! Ma io dentro? Come faccio a dipingere dentro, raga? Come che pinge fuori? Ah, ok! Ok! Sì, perché non me apre le porte! Ciao, Vignats! Buon pranzo, caro Vignats! Buon pranzo, caro Vignats! Eh, anche il frigo dei gelati, sì! Guardate che c'ho la gelata! Aspetta che devo rifornir... Devo rifornir tutto! Rifornisco tutto, ok! L'hai chiuso il magazzino? Sì, sì! Mamma mia, è come nella vita reale! L'hai chiuso il gas! Mamma mia, salve agente! Salve, salve, salve! Allora, un attimino, fatemi pulire con la spugnetta! Fatemi pulire con la spugnetta! Qua che è sporco, ok! Piano, raga, eh! Che se vecatano i prodotti, questi si arrabbiano! Salve, salve! Abbiano buona giornata anche lei! Salve! E one! E two, salute! E three! E four! Salve! Salve, salve, simpatico anzianotto! Allora... Ehm... C'ho fatto! No! Eh? No more product! No more product! No more product! No more product! Ok! Mamma mia, raga! Che gioco, che gioco che non te dà proprio... Che non te dà proprio treguetta, eh! Cioè, non potremmo dire che questo è un gioco noioso! Assolutamente! Assolutamente! Tutto, se vuoi, dimeno che è un gioco noioso! Ok, ma chi le fa ste impronte che ho pulito adesso e n'è entrato nessuno? Se spawnano da sole! Ok, ma chi le fa? 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 Ok, ma chi le fa?